Ciao a tutti e bella gente, il vostro catto è ancora qui con voi! Oggi vi propongo questo video di Mv3 che ho scaricato per il computer quindi non dovrò più registrare con il cellulare quindi ci sarà una qualità molto migliore, spero Dunque, era una delle mie primissime partite sul computer e stavo cercando di imparare a fare i quickshot oppure quickscope, chiamateli come ne avete voglia con il cecchino, come vedete qui sto imparando quindi ogni tanto faccio dei fail assurdi ogni tanto invece faccio delle cose che neanche i pro fanno ma sono veramente, ogni tanto forte, ogni tanto sono una merda E niente, in questo video qua dicevo sì, appunto sto imparando era una delle mie primissime partite su Mv3 ero in compagnia di alcuni membri di Youtube Italian Forum perché stavamo provando le registrazioni perché dovevamo capire chi registra quindi questa qua era una prova però visto che ho fatto una bella partita ho detto perché non pubblicarla sul canale qui sotto lascio in descrizione anche i membri che erano insieme a me che erano Thunder94 e Chris99 e adesso passiamo alla partita stavo usando adesso credo l'MSR con gioco di prestigio, estrazione rapida, mira stabile e velocità sono appena venute fuori perché se no non me ne sarei mai ricordate e niente qui adesso faccio un bellissimo quickscope eccolo qui e uccido no non l'uccido, niente ecco vedete quanti failfights, è una cosa assurda so che in realtà non si dovrebbero far qui lancio anche il coltello a caso ma sì perché era la prima volta che usavo la tastiera dovevo prenderci un po' di dimestichezze intanto qui qua anche faila ripartite con noi, è vero metto sempre il canale qui sotto in descrizione e dicevo adesso qui guardate ragazzi faccio una cosa meravigliosa uno con un quickshot della Madonna due e poi ragazzi anche il terzo non riesce a sopravvivere alla mia furia mamma mia e dicevo ho appena cominciato a usare il computer quindi con la tastiera non sono molto bravo insomma perché c'ho la E per lanciare le granate e la R per ricaricare quindi ogni tanto invece che schiacciare R schiaccio la E e mi partiva il coltello d'arancio quindi vabbè cose di poco conti insomma anche qui guardate una due mamma mia la velocità quindi ragazzi aspettatevi molti video di MV3 però non di Black Ops 2 perché Black Ops 2 come ho già detto nei commentari che ho fatto credo due settimane fa non mi piace eh lo so ho buttato via 70 euro perché non mi piace cioè all'inizio si era carino poi adesso la gente ci nerda sopra è diventata una cosa improconibile nel MV3 invece si riesce a io riesco a giocare benissimo insomma intanto qui mi hanno ucciso a caso perché per il bilanciamento squadra ma vabbè e dicevo io continuerò a giocare su MV3 metterò soltanto video di MV3 perché a me piace MV3 quindi se volete vedere dei video di Black Ops 2 dovete cambiare canale no magari ne metto uno o due però dovrò registrarli col cellulare perché non li ho scaricati sul computer e cos'altro dire di solito non uso il cecchino né sulla Playstation né sul computer questa qua è proprio una prova per vedere se ero in grado di fare il quickscope intanto guardate qua sembra tipo candy camera non riusciamo a prenderci guardate qua sarà poi la quinta volta che cerco di sparare ma non ce la faccio intanto qui uccido tanto era 94 che si era messo contro di noi adesso qua mi passa davanti non riesco a prendere neanche col coltello e poi ce la faccio alla fine mamma mia oh credo di aver sprecato un caricatore che uccidò ma vabbè alla fine ce l'ho fatto e qua vengo ucciso miseramente da un tizio che passava di lì per caso comunque comunque ovviamente non c'è tutta la partita se vedete lo schermo rosso è perché qualcuno ha chiamato una mob anche se non so come sia possibile chiamare una mob in only sniper però vabbè qualcuno può io no comunque credo che ci fosse anche qualcuno con l'hangbot perché soprattutto le kill finale che fanno a me praticamente la vedrete alla fine ma il tipo non mira neanche il no scoop mi spara tipo dalla parte opposta della mappa ma vabbè ah perché non so cosa l'hangbot è praticamente la mira automatica che te va in giro tranquillamente con la tua arma appena vede la testa di un nemico l'arma si punta automaticamente e te basta che schiacci il tasto per sparare e uccidi in automatico anche senza mirare proprio veramente brutta e intanto la partita è finita ecco qua vedete il punteggio 16.429.100 mamma mia ora vedete anche la kill finale eccola qua guardate come è possibile secondo voi una cosa del genere secondo me aveva l'hangbot comunque bene ragazzi se il video vi è piaciuto mettete mettete un bel pollice in su altrimenti mettete un pollice in su stesso niente ciao a tutti bella gente ci si vede nel prossimo video ciao ciao